www.telebari.it Si ricorda oggi il grande statista ucciso dalle Brigate Rosse. A Bari sono state scoperte delle targhe nei luoghi simbolo del suo passaggio dalla città. Roberto Maggi. Lui fu ammazzato dalle Brigate Rosse che volevano cambiare la storia del nostro paese non attraverso la democrazia, non andando a votare e dando ai cittadini la possibilità di votare, ma loro pensavano in quel momento con gli atti terroristici, con la violenza, con la forza, la prepotenza, con le armi pensavano di cambiare la storia di questo paese. Tra le mani dei ragazzi dei cuori tricolore, il sindaco De Caro che racconta la storia. 9 maggio 1978, le Brigate Rosse uccidono a Roma Aldomoro dopo una prigionia di 55 giorni. A 40 anni di distanza, in quella che è divenuta nel frattempo la giornata della memoria delle vittime del terrorismo, si celebra il ricordo del grande statista con manifestazioni in tutto il paese. A Bari in particolare, città dove visse a lungo, pur essendo originario di maglie, questo legame si conserva nei racconti di chi ne condivise il percorso accademico-politico e rappresenta un riferimento sempre attuale per le nuove generazioni. E così proprio in concomitanza con l'anniversario della morte, si sono voluti imprimere nella memoria della città con delle pietre di inciampo quelli che furono i luoghi simbolo legati alla sua vita. La casa dove abitò con i genitori e i fratelli, in via Gioacchino-Murà, l'istituto d'arte Renato More, dove lo stesso Aldomoro nel 1961 inaugurò il busto per suo padre. Ed è qui che i ragazzi hanno raccolto l'occasione di confrontarsi con la storia in un periodo di crisi politica dell'Italia che rende tremendamente attuali le parole impresse alla base del busto collocato a pochi passi dalla stazione. Questo paese non si salverà se in Italia non nascerà un nuovo senso del dovere, un pensiero condiviso da Luigi Ferlicchia, presidente della Federazione dei Centri Studi Aldomoro e Renato Dell'Andro della Puglia. Pare che la lezione di Moro sia stata dimenticata e quello che vediamo in questi giorni, un governo che non si riesce a fare, proprio rivela la mancanza di uomini di Stato come Aldomoro, il quale mai avrebbe consentito un degrado politico di questo genere. Il Santo Patrono sarà festeggiato anche dalla comunità di Catino nel quinto municipio. Si parte il 25 maggio prossimo. Le celebrazioni del Santo Patrono di Bari San Nicola non terminano certo oggi. Si passerà le periferie il 25 maggio quando la comunità di Catino, guidata dal parroco della chiesa dedicata al santo, Don Luciano Cassano, darà il via ai tre giorni di festeggiamenti. Il 25 porteremo San Nicola nel pomeriggio d'Arcatino a Santo Spirito, celebreremo la Santa Messa nella chiesa di Santo Spirito e poi imbarcheremo l'immagine su un peschereccio dove per tutta la notte rimarrà a Santo Spirito, quindi San Nicola va anche nelle periferie per mare. Quindi tutta la notte a Santo Spirito, la mattina del sabato 26 alle ore 12 ci sarà la traversata in mare con tutti coloro che con devozione verranno con le barche a far visita a San Nicola. Si farà meno del corteo storico, troppo costoso, ma le celebrazioni del Santo Patrono imbarcato dal porticciolo di Santo Spirito rimangono tra le più attese. E all'appello di Don Luciano, rivolto al sindaco di implementare i servizi di trasporto diretti a Catino in occasione dei festeggiamenti dal 25 al 27 maggio, De Caro risponde. Vediamo se nell'ambito del finanziamento che abbiamo già a disposizione riusciamo a recuperare qualche chilometro in qualche zona che magari è più servita per metterlo a disposizione della comunità di Catino. Questa mattina i sindaci di Bari Antonio De Caro e di Assisi Stefania Proietti hanno sottoscritto un protocollo di collaborazione con l'obiettivo di sviluppare e consolidare i proficui rapporti di amicizia e solidarietà attraverso la reciproca promozione delle due città, la cooperazione e gli scambi in ambito religioso, sociale, culturale e turistico. Le due comunità vantano infatti forti legami storici, religiosi, spirituali e artistici e nel tempo hanno dato un notevole contributo allo spirito del dialogo e della tolleranza nel nome di San Francesco e di San Nicola. All'incontro ha partecipato anche il presidente della Commissione Consigliare Cultura e Giuseppe Cascella, promotore dell'accordo. Una nuova concezione dell'accoglienza. Presentato l'angolo del tempo, la nuova sala d'attesa del Dipartimento dell'Area Medica dell'Istituto Tumori, Giovanni Paolo II, ne abbiamo parlato con il direttore Attilio Guarini. Si parla tanto di umanizzazione, voi avete scelto per questo nuovo progetto un nome, l'angolo del tempo, perché? Il progetto di umanizzazione anzitutto parte da noi, siamo noi gli addetti alla sanità che devono avere un approccio alla persona, non al paziente. L'angolo del tempo è un grosso progetto a livello nazionale e mi pregio di essere arrivati per primi in Italia ad avere questa location che è pensata nell'ottica di rendere più confortevole per quanto possibile l'attesa che spesso è angosciosa di un paziente che deve venire a visita da chi tratta una neoplasia. ma è solo l'inizio, perché è la mission dell'Istituto e del nostro Dipartimento che ho l'onore di dirigere. Non è solo l'attesa, è tutto il percorso della persona che affrontiamo a 360 gradi. Attimi di paura questa mattina a Bari, nei pressi dell'ingresso del policlinico di Viale Orazio Flacco, dove poco prima delle 11 una donna è stata investita da un'auto. Stando a quanto appreso, la signora stava attraversando la strada quando è stata travolta da una Ford grigia in transito sulla via. L'automobilista ha quindi allertato il 118 che ha immediatamente inviato sul posto un'ambulanza. Le condizioni della donna non sarebbero gravi. Per chiarire ulteriormente le dinamiche dell'incidente, sono giunti in luogo anche gli agenti della polizia locale. All'interno della sua edicola del centro, nei pressi del Tribunale, vendeva biglietti Amtab contraffattici di pirata e DVD illecitamente riprodotti. In casa poi aveva allestito una vera e propria centrale della contraffazione con tanto di strumentazione professionale per la stampa a caldo. Lì la Guardia di Finanza ha rinvenuto oltre 16 mila biglietti Amtab falsificati e pronti per la vendita e due luci di riportanti il retro del logo dell'azienda municipalizzata. Per questo un giornalaio barese è stato denunciato per delitti contro la fede pubblica, il patrimonio e per violazione della vigente normativa sui diritti d'autore. Con lui denunciati anche due complici. Ieri mattina a Bari la polizia di Stato ha arrestato la 47enne barese Lucia Sedicina ritenuta responsabile del reato di furto aggravato in concorso con Anna Rita Lo Savio pregiudicata barese di 34 anni già fermata lo scorso 17 gennaio per lo stesso episodio. Le indagini hanno consentito di accertare che una delle due donne fingendosi cliente di una gioielleria di Piazza Moro aveva intrattenuto la detta alle vendite del negozio mentre la propria complice approfittando della distrazione della commessa si era impossessata di numerosi monili in oro. Dopo le formalità di rito Lucia Sedicina è stata sottoposta al regime degli arresti domiciliari presso la propria abitazione. L'elogio dei vitigni pugliesi nella quinta edizione di Bianca di Puglia. Ancora una volta la rassegna dedicata alle eccellenze enogastronomiche pugliesi si è svolta nel Fortino Sant'Antonio. I vini bianchi più buoni d'Italia? Senza dubbio quelli pugliesi. Se ne è parlato durante Bianca di Puglia la rassegna ormai divenuta tradizionale ha preso vita nel Fortino Sant'Antonio grazie alla delegazione barese dell'Associazione Italiana Sommelier di Puglia con il patrocinio dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione e dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Bari. Il tema della quinta edizione dedicato ai vitini tradizionali pugliesi Bianchi di Puglia perché parlarne? È un appuntamento importante non solo per l'Ais Puglia ma per tutto il mondo dell'agroalimentare e il mondo vitivinicolo in particolare perché esalta un prodotto che è il vino bianco in Puglia in tutte le sue tipologie sia autoctone che all'octone e lo proietta sempre più lontano verso i mercati, nuovi mercati. Nel pomeriggio la presentazione del libro del relatore Ais Giuseppe Baldassarre Sorsi di luce, canto del vento, della terra e del mare in serata poi spazio alla degustazione dei bianchi provenienti dai vitini dell'intera regione raccontati dai sommelier dell'Ais Puglia e abbinati ai formaggi, salumi e prodotti da forno della tradizione pugliese. Abbiamo vissuto negli anni Ottanta questo impiantare di vitigni internazionali per arricchire un po' i nostri vitigni autoctoni adesso un po' le cose si sono ribaltate siamo ad un punto dove i nostri vitigni autoctoni con il loro profilo territoriale esprimono una eleganza e una finezza eccellenti così come i vitigni Chardonnay e Sauvignon Blanc che trasferiscono questa territorialità pugliese nelle loro declinazioni diciamo binicole. L'informazione termina qui vi ricordo che potete seguire notizie ed aggiornamenti sul nostro sito internet www.telebari.it ed ora vi lascio il meteo. Ben trovati da Nikos di Trebi Meteo eccoci qui a scoprire la tendenza per la giornata di giovedì che vedrà un po' di più sole in pianura padana e sulle coste del centro-sud anche se con i colori blu guardate spunteranno nel pomeriggio acquazzoni e brevi temporali sull'arco alpino il vicino Piemonte, l'alta Lombardia e poi via sulla Drossale Appeninica insomma la classica instabilità pomeridiana tipica anche del periodo primaverile ormai ci avviciniamo all'estate andiamo a vedere di fatti cosa succederà con la mappa della nuvolosità delle schiarite anche ampie su molte zone specie del centro-sud appunto nel pomeriggio attenzione ai temporali ce lo conferma anche la prossima grafica spunterà qualche focolaio temporalesco sia sulle montagne del nord ma anche tutte le zone del centro-sud risparmiati tra i costieri a parte il basso tirreno qualche isolato temporale temperature da nord a sud tra i 20 e i 25 gradi tagli maggiori come sempre scaricano l'app di Trebi Meteo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti